Devi essere sincero con lei, capisci? Devi sempre comunicarle i tuoi sentimenti, devi parlare con lei. Parlale. Christine e io non abbiamo mai parlato, eravamo degli idioti. Abbiamo buttato via tutto. E ora guarda, guarda come sono ridotto. Ma che vuoi dire? Ti diverti da pazzo a fare la corta alle ragazzette? Samo, la mia vita è un mucchio di merda. Un mucchio di merda. È vuota, senza scopo, tutte quelle donne. Mia sorella Gayle ha ragione. Se continuo così mi ritroverò da solo tutta la vita. Senza una famiglia. Io non voglio morire come Van Gogh, è spaventoso. Vuoi sapere la verità? Samo, darei qualunque cosa per riavere Christine. È questa la verità. E a volte, che Dio mi fulmini per averlo ammesso, a volte io vorrei essere padre. Scusa, perdona, mi stai parlando sul serio? No. Probabilmente sì, sareste un buon padre. Non lo so, ma io e te stiamo invecchiando, credo sia ora, per noi di affrontare le nostre responsabilità. Ma non perdere Rebecca. È la cosa più bella che ti sia mai capitata.